No, 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 al mister non c'entra niente l'effetto delle grottaglie, anzi, il problema quando si perde 4-1 c'è poco da dire. Abbiamo fatto una brutta partita per certi versi, però bisogna già metterla da parte e pensare a domenica che abbiamo una partita importantissima. Senti, ma nel primo tempo che cosa è successo perché loro facevano quello che volevano in pratica? Sì, è una partita dove a noi c'è riuscito poco e a loro riusciva tutto. Ti sei chiesto il perché? C'è poco da chiedersi, sappiamo tante cose, sappiamo che è una partita che va messa subito da parte e bisogna pensare alla prossima. Pensare alla prossima, la gara con l'Ascoli, all'andata arrivò dopo una sconfitta altrettanto pesante con il Crotone all'Osteria Adriatico, il Pescara riuscì ad avere una reazione e ad espugnare il Del Duca. Domenica giocherete in casa, l'imperativo sarà quello della vittoria? Sì, dobbiamo giocare per vincere, sappiamo una partita che ci tengono tutti e potrebbe essere magari una partita che cambia anche la stagione. Dobbiamo cercare di preparare e mettere il prima possibile da parte questa partita di oggi che è stata veramente brutta. Anche qui a Crotone, tanti chilometri di distanza, 30-40 sostenitori biancazzurri a fine partita, non vi siete avvicinati tanto, anche perché la partita è stata brutta, no? Sì, è stata brutta, siamo andati sotto, giustamente anche loro sono incavolati come siamo incavolati noi per questa brutta figura che abbiamo fatto. L'Erian, questo modulo, questo 3-5-2 è un modulo che questa squadra può reggere perché nelle ultime gare si sono visti dei problemi. Tu ovviamente non sei un difensore ma quando si ha carenza di difensori centrali, continuare a giocare con tre giocatori dietro e questa sera con Del Grosso che non è un centrale, a cosa può servire? No, ma al di là non sono i moduli, i numeri che fanno la differenza. Se alla base magari mancano altre cose, quelli sono numeri, però se ti mancano altre cose sono numeri che rimangono lì. Abbiamo sbagliato altre cose e non di certo il modulo, perché l'abbiamo preparato in maniera diversa e abbiamo fatto meno di quello che ci ha chiesto il mister. Una curiosità, Bogino, perché è stato allontanato dalla panchina? Non lo so, non lo so perché non l'ho ancora visto, non ti so dire.